Rischia di diventare un caso l'approvazione del bilancio previsionale del Comune di Caltanissetta per il periodo 2022-2024. Il nulla di fatto dei giorni scorsi in Consiglio Comunale, con l'uscita dall'aula dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, che in quell'occasione si trovavano in minoranza, 11 presenti contro i 12 dell'opposizione, ha dato il via alle polemiche. I componenti della maggioranza pentastellata hanno subito precisato di aver agito in difesa del bilancio stesso da attacchi strumentali e ritardi ingiustificati, mentre dall'opposizione si chiede una valutazione più profonda dei contenuti del bilancio, accusando la maggioranza di restare silente. La discussione per l'approvazione del bilancio previsionale, sicuramente una delle più importanti nel programma dei lavori del Consiglio Comunale, tornerà in aula a mercoledì 13 luglio, nella seduta fissata per le 17.30. Inevitabile di questi tempi che la questione venisse dibattuta anche sui social, con tanti cittadini che chiedono chiarezza e buonsenso, visto che in ogni caso ci sono di mezzo i piani di spesa e di entrata di soldi pubblici.